Sapete cosa state guardando? Si tratta di un disco frizione e dei pistoni freno a cui è stata effettuata la cromatura. Siamo da Galvano Technique, azienda specializzata in trattamenti termici e galvanici. La cromatura è un processo elettrolitico per depositare del cromo duro con durezze dai 900 ai 1200 Vickers con spessori che variano dai 10 micron al millimetro su componenti ferrosi e non ferrosi. Lo scopo è quello di incrementare la resistenza a corrosione ed usura abrasiva dei pezzi. Come mai un'azienda come Galvano Technique ha bisogno anche di un laboratorio chimico e metallografico? Per due motivi. Il primo è per il controllo della chimica, ci riferiamo a tutte le vasche di processo. Il secondo è per verificare che il trattamento abbia realmente raggiunto le specifiche richieste da progetto. I parametri più importanti della cromatura sono le concentrazioni, le temperature e la quantità di corrente erogata, in quanto se è troppo poca al pezzo non si croma. Se è eccessiva non si riesce a trasformare l'acido cromico in cromo metallico e il pezzo si brucia. Dopotutto anche questa ingegneria.